Vuoi delle maglie da calcio di questa stagione a poco prezzo? C'è chi calcio? Usa il codice promozionale GS per ottenere il 15% di sconto su ogni acquisto. Link e altre informazioni in descrizione. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di noi italiani. Perché c'è questa moda, già da un po' di tempo, di tifare contro l'Italia. Tifare contro, tra virgolette, sia chiaro, non intendo letteralmente, ma di tifare contro la propria nazionale perché noi italiani non siamo mai contenti. Noi italiani siamo dei veri e propri rompicoglioni. Questa è una moda assai fastidiosa che si scopre sui social perché di questi tempi è sui social che scopri una moda, che la giudichi o che ti accodi alla stessa moda, che ne segui la scia. E' veramente fastidiosa. Ormai sembra che l'italiano non aspetti altro che una prestazione deludente o addirittura una sconfitta per poter dire, avete visto? Avevo ragione io. Avevo ragione io. Su quel giocatore avevo ragione io. Su una nazionale avevo ragione io. Che la criticavo. Avete visto? Che partita ha fatto? Come è uscita? Siamo imbarazzanti. Siamo veramente imbarazzanti. Senza ragione noi non viviamo. Ormai quello è diventato il nostro obiettivo di vita. Avere ragione. Quello. Anche a discapito della nazionale che tifiamo o che dovremmo tifare. Uso il condizionale. Che dovremmo tifare e supportare. Io ho letto delle cose sui social in questi giorni dopo Italia-Austria scandalose. Scandalose. Veramente alcune volte quando leggo certi commenti mi vergogno di essere italiano. ed è una cosa che non andrebbe mai detta. Mai. Mai. Ma io mi vergogno di tifare la stessa nazionale che tifa quell'utente. Ho letto delle cose veramente. Dopo una partita che tra l'altro l'Italia ha vinto. Cioè dopo gli ottavi di finale che l'Italia ha passato. Dopo che l'Italia è entrata ufficialmente a far parte delle otto squadre più forti d'Europa. Ho letto un commento di un utente che scriveva Questa è la nazionale più scarsa di sempre. Dopo Italia-Austria. Dopo che la squadra di Mancini ha vinto la trentesima partita di fila. Questa è la nazionale più scarsa di sempre. Questa è la nazionale più sopravvalutata di tutte. Ho letto. Ma sopravvalutata di che? Di che? Che ripeto, parliamo di una squadra che vince da trenta partite. Da trenta partite. Che ha difficoltà non a fare gol ma a subirlo. Il gol. Sopravvalutata di che? Di che? Non aspettiamo altro. Non aspettiamo altro che una prestazione complicata, non sottotono. Complicata perché ci scordiamo che in campo ci sono anche gli avversari. Ok? Che giocano la loro partita. Quindi prestazione non sottotono, ma prestazione complicata. Non aspettiamo altro che una prestazione complicata per poter buttare merda sui calciatori che indossano la maglia dell'Italia. Che portano alta la nostra bandiera. Non aspettiamo altro. Ho letto insulti, commenti negativi e critiche su Insigne, Immobile, Belotti, Berardi, Giorginio, Verratti, Di Lorenzo. Quasi tutta la squadra. Quasi tutta la squadra. Dopo, ripeto, una vittoria. Anche se sofferta. Ma comunque una vittoria. Ho letto un commento che parlava dei due centravanti. Che cosa abbiamo fatto per meritarci due centravanti come Immobile e Belotti? Preferivo di gran lunga Caputo e Raspadori. 50 like. Caputo e Raspadori. Caputo e Raspadori. Cioè questa moda ci rende anche stupidi. Ci rende anche stupidi. Cioè ragazzi, Caputo è un giocatore che non ha mai giocato su palcoscenico internazionale. Ma noi vogliamo veramente giocare europei e mondiali con calciatori che non hanno mai giocato partite come Europa League e Champions. E criticare un centravanti che in tre partite ha fatto due gole e un assist. Cioè in tre partite ha fatto due gole e un assist. E ha colpito un incrocio dei pali da 25 metri. Anche molto sfortunato. E un altro centravanti che nel secondo tempo supplementare è stato il migliore in campo di gran lunga. Tra tutte e due le squadre. Ha lottato su ogni palla Belotti. È stato veramente un gladiatore, un leone. Un gatto, come direbbe Caressa. E noi italiani ci permettiamo di criticare due centravanti così. Ma da quando in qua? Ma non ci vergogniamo neanche un po'. Sto usando la prima persona plurale. Ma non andrebbe usata la prima persona plurale. Andrebbe usata la seconda persona plurale. Però, però, voglio parlare a livello generale, ok? Noi italiani. Noi italiani. Che dicevamo, eh però abbiamo vinto un girone gli scappati di casa. Eh, si vede gli scappati di casa come hanno eliminato la Francia. La Francia dei fenomeni. La Francia dei palloni d'oro. La Francia dei giocatori strabilianti fuori agli ottavi di finale. Dalla squadra, eliminati dalla squadra, a cui noi abbiamo fatto tre pere. Tre. Tre pere. I scappati di casa, eh. Eh, si. Proprio un girone di scappati di casa. Assolutamente. Intanto la Svizzera ha i quarti di finale. E ha eliminato la Francia. Che avrebbe dovuto vincere gli europei. Parliamo proprio senza cognizione di causa. Cioè proprio a cazzo di cane. Ormai è così. A cazzo di cane parliamo. E non vi viene neanche in mente, questa volta lo uso, la uso la seconda persona, non vi viene neanche in mente che i commenti che scrivete li possano leggere i calciatori. Che magari dopo la partita vanno sui social a seguire, insomma, queste pagine qui popolari che conoscono tutti, a leggere i commenti che scrivete. Non vi viene in mente. È così che supportate la nostra nazionale, eh. Parliamo tra l'altro di un nazionale, la squadra dei Mancini, molto unita. A quanto pare non rispecchia per niente il nostro paese. Ciao. Forza Italia.